Oggi sono veramente contento, perché sono stato introgato a matematica, ho preso 7, anche se in realtà pensavo peggio, però va bene così, va benissimo, così non mi dà niente. Perché ho questa cosa in mano? Avrete sicuramente intuito di cosa andrò a parlare. Ebbene sì, partirò per Oxford, questo mi è stato dato dalla scuola, all'ultima ora c'è stata la riunione tra le classi che saranno presenti per Oxford, innanzitutto ci hanno dato, questo non è altro che la testera da mettere all'interno della propria valigia, quindi se a caso uno dovessi perdere la valigia, chi riuscirà a ritrovare la valigia persa, insomma in qualche modo potrà rintracciare questa determinata persona. Oltre a questa abbiamo questo foglio, che non è altro un certificato di assicurazione. Altra cosa, allora che cosa c'è scritto? Il ritrovo è alle 7 e mezza davanti alla nostra scuola, quindi ciò significa che io mi dovrò svegliare alle 5, perché sono un ragazzo lento a prepararsi quando deve magari andare da qualche parte. E alle 8 ci sarà la partenza in bus e si andrà poi successivamente nel porto. Prenderemo la compagnia aerea British Airways, partiremo domenica mattina a mezzogiorno e 5, torneremo sabato alla prossima settimana alle 11. Sicuramente il cibo non sarà come qui in Italia, il clima ad Oxford non sarà come qui in Italia. Avevo pensato di portarmi dietro, i computer portati così per montare i video. L'avete in famiglia, quindi bisogna adattarsi, l'educazione è molto importante, è consapevole e corrente di ciò che dovrà fare. Ah, e poi questo è un foglio in cui c'è scritto tutto ciò che faremo, sicuramente lezioni di chilesi. Tra l'altro andremo per un giorno intero a Londra, giocheremo anche a bowling tutti insieme, sarà divertente. Poi comunque vedrete tutto nei prossimi video e caricherò. Niente, credo di avervi detto tutto, ho voluto fare questo video perché volevo condividere con voi tutto ciò. Se vi devo dire la verità, sono emozionato perché è la prima volta in prima vita che faccio una vacanza studio. Credo che sarà una bellissima esperienza. Se tutto va bene, caricherò in questi giorni il video in cui farò assieme a voi la valigia. Niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!